Pasticcio CT EUR La squadra del Palafonte ha subito 1-0-6 a tavolino a favore dell'Atletico Civitavecchia nella prima partita di Coppa Lazio e l'esclusione dalla competizione La gara, terminata per 5-1 a favore dei Biancorossi, ha visto scendere in campo Valerio Gentile e Gianluca Ventola squalificati dall'ultimo match di Coppa Lazio di C2 nella scorsa stagione Per Riggio, inibizione di una settimana, ai giocatori in questione, Gentile e Ventola viene inoltre combinata un'ulteriore giornata di squalifica